come sapete leggiamo oggi il canto 30 dell'inferno come mi è stato richiesto qualche settimana fa non userò oggi la chat ma vi pregherò a un certo punto quando faremo una pausa durante la lettura di fare a voce le domande eventuali che avrete qualcuno sta alzando la mano Alissia qualcuno vuole domandare qualcosa no era un saluto era un saluto grazie grazie bene allora vi preghiamo come al solito di tenere i microfoni spenti a meno che non vogliate dire qualcosa e cominciamo la lettura nel tempo che Iunone era cruciata per semele contro il sangue tebano come mostrò una e altra fiata Atamante divenne tanto insano che veggendo la moglie con due figli andar carcata da ciascuna mano gridò quando tendiam le reti si chiopigli la leonessa e i leoncini al varco e poi distesi i dispietati artigli prendendo l'un che avea nome le arco erotollo e percosselo ad un sasso e quella s'annegò con altro carco e quando la fortuna volse in basso l'altezza dei troianche tutt'ardiva sicché insieme col re il re Focasso ecuba trista misera e cattiva poscia che vide polisenna morta e del suo polidorio sulla riva del mar si fu la dolorosa corta forse è nata l'atrossi come cane tanto il dolor le fè la mente torta ma né di te be furie né troiane si vider mai in alcun tanto crude non punger bestia nonché membra umane quant'io vidi in due ombre smorte nude che mordendo correvan di quel modo che il porco quando del porcil si schiude l'una giunse a capocchio e in sul nodo del collo la sannò sicché tirando grattargli feci il ventre al fondo sodo e la retin che rimase tremando mi disse quel folletto è Gianni schicchi e va rabbioso altrui così conciando o dissi io lui se l'altro non ti ficchi gli denti adosso non ti sia fatica a dir chi è pria che di qui si spicchi e delle a me quella è l'anima antica di mirra scellerata che divenne al padre fuor del diritto amica questa a peccar con esso così venne falsificando sei in altrui forma come l'altro che l'assen va sostenne per guadagnare la donna della torma falsificare in sé buoso donati testando e dando al testamento norma e poi che i due rabbiosi forpassati sopra cui aveo all'occhio tenuto rivolsilo a guardare gli altri marlati io vivi un fatto a guisa di leuto perché li avesse un fuori all'anguinaia tronca dall'alto che l'uomo ha forcuto la grave idropesi che si dispaia le membra con l'omor che mal converte che il viso non risponde alla ventraia faceva lui tener le labbra aperte come l'etico fa sicché per la sete l'un verso il mente l'altro in suro inverte o voi che senza alcuna pena siete e non so io perché nel mondo gramo dissegli a noi guardate e attendete alla miseria del maestro Adamo io ebbi vivo assai di quel che voglio e ora lasso un goccio d'acqua a bramo i ruscelletti che di verdi colli del casentin discendo in gius in arno facendo i loro canali freddi e molli sempre mi stanno innanzi e non in darno che l'immagine loro vi è più masciuga che il male ondio nel volto mi discarno la rigida giustizia che mi fruga trage cagion del loco vi opeccai a metter più i miei sospiri in fuga i vie romena laddove io falsai la lega soggellata del batista per chi il corpo su arso lasciare come che vanno intorno di convero ma che mi vale con le membra legate se io fossi pur di tanto ancora leggero chi potessi in cent'anni andare un'oncia io sarei messo già per lo sentiero cercando lui tra questa gente sconcia con tutto che la volge undici miglia e mendun mezzo di traverso noncia io son per l'oltre si fatta famiglia e mi indussero a battergli fiorini che avevano precarati di mondiglia e io a lui chi son li due tapini che fuman come pan magnate il verno giacendo stretti ai tuoi destri confini qui li trovai e più volte non vienno rispose quando piopi in questo greppo e non credo che vieni un sentiterno l'una è la falsa che accusò Giuseppo l'altro il falso sino un greco di Troia per febbre adulta gittan tanto leppo e l'un di lor che si recò a noi a forse d'esserno ma così oscuro col pugno gli percosse l'epa croia quella sonò come fosse un tamburo e Mastro Adamo gli percose il volto col braccio suo che non parve men duro dicendo a lui ancor che mi sia tolto lo muover per le membra che son gravi ho io il braccio a tal mestiere sciolto ondei rispose quando tu andavi al fuoco non l'avei tu così presto ma si e più l'avei quando coniavi e l'idropico tu di il ver di questo ma tu non fosti si ver testimonio l'ave del ver fosti a Troia richiesto si io dissi falso e tu falsaste il conio disse si no e son io per un fallo e tu per più che alcun altro demonio ricorditi speggiuro del cavallo rispose quel che aveva infiata l'epa e si e direo che tutto il mondo sallo e te si arete la sete onde ti crepa disse il greco la lingua e l'acqua marcia che il ventre innanzi agli occhi si ti assiepa allora il monetiere così si squarcia la bocca tua per tuo male come suole che si o se e te o mordi l'infarcia tu hai l'assura e il capo che ti duole e per leccare lo specchio di narcisso non vorresti invitar molte parole ad ascoltarli ero io e il calmi feci io non possendo parlare che disiava scusarmi e scusava me tuttavia e non mi crede a fare maggior difetto mer vergogna lava disse il maestro che il tuo non è stato però d'ogni tristezia ti disgrava e fa ragione anch'io ti sia sempre al lato se più abbia anche fortuna t'accoglia dove si è in genti in similiante piato che voler ciò vuol dire è bassa voglia dunque questo trentesimo canto è l'ultimo dei canti dedicati all'ottavo cerchio a malevolge e infatti è stato notato da più studiosi che è il più variegato in temi e stili di tutti i canti dedicati a questo ottavo cerchio probabilmente tirando un po' le somme di tutti gli stili che Dante ha provato nell'inferno allora il canto si apre siamo sempre nell'ultima volge vi ricordate di cui abbiamo già visto la settimana scorsa questi scabbiosi questi alchimisti che sono appunto tra i falsari di quest'ultima zona di malevolge adesso ne vedremo gli altri inizia il canto però con una analogia anzi due analogie molto solenne la prima delle quali tratta dal repertorio di Tebe e la seconda del repertorio di Troia entrambe hanno come fonte le solite metamorfosi di Ovidio ma è la sola volta in tutto il poema in cui la materia di Tebe e di Troia vengono accomunate dal poeta e quindi inizia ricordando il mito di Ino e Atamante leggiamo e poi spieghiamo nel tempo che Junone era cruciata per Semelè contro il sangue Tebano come mostrò una e altra fiata allora Junone sapete Junone con le sue solite insomma gelosie furibonde in questo caso gelosa di Semelè questa donna di cui Giove non solo si era invaghito ma che aveva lasciato incinta da cui poi nacque Bacco però allora nel tempo in cui Junone si era arrabbiata a causa di Semelè contro tutto il sangue Tebano come mostrò ben due volte cioè una volta facendo incenerire Semelè torneremo su questo mito quando leggeremo il paradiso e l'altra volta quello che si ricorderà appunto qua sulla sorella di Semelè Ino perché vabbè vi atticipo un po' quello che quello che fa Junone appunto in questo tempo è far sì che le Rinni diciamo facessero impazzire a Tamante il marito di Ino che come si racconta qua poi confonde la moglie e i suoi due bambini con una leonessa e due leoncini e quindi li caccia anzi ne caccia uno e poi lei si insomma si ammazza con l'altro bambino in braccia allora a Tamante verso quarto a Tamante divenne tanto insano che veggendo la moglie con due figli andare carcata da ciascuna mano vedendo la moglie che portava in mano in ogni mano un bambino gridò tendiam le reti si chiopigli la leone e i sei leoncini a varco cioè credendoli appunto bestie e non vedendo che era invece sua moglie e i suoi figli verso nono e poi distesi i dispietati artigli prendendo l'un che avea nome le arco e rotondo e percosselo ad un sasso e quella s'annegò con l'altro carco con Meli certo che era l'altro bambino cioè tutta questa similitudine di Ben in realtà finora diciamo non è chiaro perché non c'è un nesso comparativo che si tratta di una similitudine ma è un ricordo che servirà appunto insieme al ricordo della della pazzia di Ecuba servirà a illustrare la rabbia furibonda di questi nuovi spiriti che Dante adesso vedrà cioè che ha visto in quel momento e che si accinge a descrivere quindi innanzitutto attraverso questi dodici versi si ricorda la follia rabbiosa di Atamante che diventa particolarmente crudele inconsapevolmente sui propri figli e ora al verso 13 sempre con la solennità dei miti antichi come vi dicevo si aggiunge l'esempio troiano e quando la fortuna volse in basso l'altezza del troian che tutto ardiva sicché insieme col regno e il re fu casso cioè quando la fortuna fece perdere i troiani che erano molto superbi vi ricordate che nel primo canto dell'inferno nel primissimo ricordo che c'è di Troia in bocca di di Virgilio se ne parla come del superbo Ilion quando il superbo Ilion fu combusto allora quando la fortuna volle che i troiani che ardivano tutto cadessero si volse in basso così tanto che insieme con il regno con Troia stessa cadesse il re Priamo ecuba trista misera e cattiva poscia che vide polisenna morta e del suo polidormi sulla riva del mar si fu la dolorosa corta forse è nata la trossiccome cane tanto il dolor le fellamente torta allora ecuba la regina è ormai vedova di Priamo triste ormai vinta schiava fatta schiava dai greci dopo aver visto la figlia polisenna morta sul cumulo di Achille e dopo essersi accorta la dolorosa del suo polidoro dell'altro figlio sulla riva del mare la trò forse nata cioè fuori di sé come un cane tanto il dolore gli stravolse la mente quindi un altro esempio questa volta troiano di pazzia furibonda che addirittura fa abbagliare una donna che dopo questi 21 versi di digressione in qualche modo dalla narrazione vera e propria riprende con la solita dichiarazione di mancanza di questi esempi per rendere la terribilità dell'inferno al verso 22 Dante per descrivere la bestialità di questo nuovo gruppo di anime che vide nella decima volgia ma né di tebe furie né troiane si vide ormai in a quel modo che quando del si chiude ormai ne stiamo aperta non si sente claudia scusa non si sente sei congelata claudia mamma mia adesso torno un po' indietro di alcuni versi va bene ma adesso mi sta sentendo sì ora sì bene ora spero mi abbiate sentito fino al verso 21 dove finisce la seconda diciamo storia antica dicevo che Dante adesso dal verso 22 appunto fa il paragone insufficiente come al solito per rendere in questo caso la rabbia bestiale di due anime che vede arrivare quindi leggiamo di nuovo dal 22 ma né di te be furie né troiane si vider mai in alcun tanto crude non punger bestie non che membra umane quant'io vidi in due ombre smorte nude che mordendo correvan di quel modo che il porco quando del porcil si schiude allora ma non non si è mai visto né furie di tebe o di troia così tanto crudeli attaccare delle bestie o delle membra umane quanto io vidi due ombre smorte cioè pallide nude che correvano mordendo altri dannati nello stesso modo in cui il porco corre quando è liberato dal porcile ora vedete il cambiamento subito di tono dopo questa solennità delle storie antiche proprio l'abbassamento del registro a questo a questo paragone con il porco chiaramente di matrice comica comica nel senso dantesco chiaramente allora vi ricordate che dante stava parlando prima con cioè alla fine del canto precedente l'abbiamo lasciato che lasciava che parlava con l'ombra di capocchio questo fiorentino che dice di aver conosciuto dante che era stato diciamo anche lui come i personaggi che incontreremo qua un grande imitatore che aveva detto vi ricordate di se stesso che era stato una brava scimmia capocchio vi ricordate aveva aveva parlato con dante cioè si era unito a un commento negativo di dante sui senesi sulla vanità dei senesi ricordando dei senesi sciallacquatori vi ricordate di questi senesi questi giovani molto ricchi che avevano insomma rovinato la fortuna familiare nel giro di pochi anni e avevamo avevamo commentato la settimana scorsa che appunto gli sciallacquatori sono puniti nel settimo cerchio insieme ai suicidi e infatti abbiamo ricordato che in questo canto tredicesimo oltre all'episodio centrale di Pier della Vigna c'era anche questo topico della caccia infernale dove gli sciallacquatori venivano perseguitati da cani da caccia e cercavano di proteggersi con gli arbuscelli che sono il corpo arboreo appunto dei suicidi allora interessante perché Capocchio ha parlato di questa cosa con Dante poco fa e adesso lui diventa vittima di una caccia infernale perché evidentemente gli alchimisti che hanno questa scabbia nella velle convivono nella stessa bolgia con queste che adesso arrivano che come vedremo sono falsatori di persona cioè sono quelli che si fecero passare per altri e la cui condizione è appunto quella della idrofobia cioè della rabbia come la rabbia come chiaramente come malattia e quindi corrono come forsennati mordendo le anime degli altri dannati e infatti al verso 28 è lo stesso Capocchio che viene azzannato da uno di questi personaggi luna giunse a Capocchio e sul nodo del collo la sannò sicché tirando grattargli feci il ventre al fondo sodo cioè una di queste due anime che vengono di corsa rabbiose raggiunse Capocchio l'alchimista e la zannò nel nodo del collo nella nuca in modo che tirandolo lo strofinava cioè gli faceva strofinare il ventre contro il suolo vedete come è diventato veramente comico e anzi sprezzante no? questo di grattarli feci il ventre al fondo sodo è anche sarcastico e la retin verso 31 e la retin che rimase tremando mi disse quel folletto e Gianni schicchi e va rabbioso altrui così conciando grifolino d'Arezzo vi ricordate quello che aveva raccontato di essere stato bruciato perché non aveva insegnato albero da siena come si volava che era l'altro dei due con cui Dante aveva parlato prima che rimase lì tremando perché chiaramente ha scampato un pericolo anche lui mi disse quel folletto folletto è una sorta di spirito demoniaco volante no? che qui è usato in un modo metaforico e Gianni schicchi e va conciando così gli altri per la sua idrofobia per la sua rabbia allora questo Gianni schicchi come si vedrà dopo è stato protagonista di appunto un cambiamento di persona cioè era amico di un intanto lui è della famiglia dei cavalcanti quindi una famiglia nobile una famiglia importante fiorentina e a richiesta di Simone Donati si fece passare per Buoso Donati Buoso Donati era lo zio di questo suo amico Simone che era ricchissimo e stava per morire o secondo altri cronisti già morto senza prole e quindi Simone il nipote di Buoso aveva chiesto a Gianni schicchi di farsi passare per Buoso per il morto o l'agonizzante non si sa di preciso ci sono diverse versioni di questa cronaca di farsi passare al letto sul buio per lui perché appunto Gianni Schicchi era un grande imitatore un grande attore evidentemente che imitava anche molto bene con la voce e di cambiare cioè dettare testamento in modo da lasciare all'amico cioè al nipote di Buoso Donati tutto tutta la sua fortuna ma approfitto anche per lasciare a se stesso una giumenta molto pregiata e quindi evidentemente con Gianni Schicchi entrano nella scena i falsatori di persona che hanno come contrapasso questa nuova malattia la rabbia la idrofobia e idrofobia scusate e ora la storia di Gianni Schicchi verrà nominata più avanti adesso in mezzo dopo aver nominato Gianni Schicchi Dante approfitta che Grifolino gliel'ha detto affinché gli dica chi è l'altra delle due anime che stanno correndo rabbiose mordendo gli altri e allora al verso 34 o disse io lui se l'altro non ti ficchi i denti addosso non ti sia fatica a dire chi è pria che di cui spicchi o dice Dante a Grifolino in nome desiderando che l'altro non ti ficchi i denti quindi non morda anche te non ti dispiace di dirmi chi è prima che se la svigni prima che parta subito da qui qua Dante anche come personaggio si serve di un linguaggio comico intanto di rime molto stridule come schicchi ficchi spicchi e poi anche questo verbo spicchi chiaramente è come io l'ho parafrasato un verbo molto colloquiale poi anche la richiesta il nome ti desidero che non riesca a mordere te e così come è cambiato vi dicevo lo stile dallo stile aulico sublime che richiedeva la materia antica di Teve di Troia qui così come si è abbassato il registro chiaramente si è passato subito alla cronaca contemporanea di Gianni Schicchi e che però come vedremo ora si torna a un mito vidiano che convive molto da vicino con questa cronaca di Gianni Schicchi al verso 37 Grifolino risponde a Dante e dellì a me quella è l'anima antica di Mirra accelerata che divenne al padre fuori del dritto amore amica allora questa Mirra sempre proveniente dalle metamorfosi di Onvidi infatti è la donna che poi nella metamorfosi diede luogo alla Mirra alla pianta aromatica era la figlia del re di Cipro e si era innamorata del padre per cui si era fatta passare per un'altra donna per stare con lui finché tutto ovviamente questo incesto si scopre e finisce tragicamente allora Mirra ha in comune con Gianni Schicchi nonostante siano così diversi come ambiente il fatto di essersi fatti passare per altri va bene e quindi al verso 40 questa peccare con esso così venne falsificando se in altrui forma cioè questa per peccare con il padre si falsificò nella forma altrui quindi si si fece passare per un'altra donna come l'altro che là che là se va cioè come Gianni Schicchi l'altro che se ne va là sostenne per guadagnare la donna della torma falsificare in sé buoso donati testando e dando al testamento norma cioè come Gianni Schicchi tollerò cioè arrivò a fare pur di guadagnare questa giumenta la donna della torma la cavalla più bella di tutti quelli che aveva buoso donati falsificare in sé buoso donati testando e dando norma al testamento quindi dettando testamento in un modo legale e quindi se prima avevamo visto dentro questa decima volgia gli alchimisti che subiscono questa malattia la scabbia questa malattia della pelle adesso stiamo vedendo attraverso tutta questa mescolanza di stili e di materie i rabbiosi presi sia dalla storia contemporanea sia sempre dalle solite eh dal solito repertorio ovidiano delle metamorfosi quindi convivono come vedete miti storie eh cronaca nello stesso episodio e al verso 46 e poi che i due rabbiosi fuorpassati sopra cui avea l'occhio tenuto rivolsilo a guardare gli altri malnati cioè Dante fa una pausa qua perché infatti cambierà il cioè come scrittore chiaramente decide di separare questi dannati da un nuovo gruppo di falsatori che ora si accinge a descrivere e quindi separa attraverso questa terzina e una volta che i due rabbiosi se ne furono andati quelli sopra i quali io avevo mantenuto la vista lo rivolsi cioè rivolsi l'occhio a guardare gli altri malnati cioè gli altri dannati che Dante spesso chiama nell'inferno malnati cioè nati per il loro male cioè che avrebbero preferito non nascere e allora vede al verso 49 ci dice un nuovo gruppo gruppetto di anime io vivi un fatto a guisa di leuto purché che gli avesse avuta l'inguinaia tronca dall'altro che l'uomo ha forcuto allora io vidi uno che sembrava un liuto sapete no lo strumento musicale il liuto che è tutto pancione solo se lui avesse avuto l'inguinaia troncata dalle gambe da quello che l'uomo ha forcuto che sono le gambe in forma di forca cioè se non avesse avuto le gambe sarebbe stato un liuto perfetto dice Dante e quindi è uno che chiaramente è molto gonfio nella pancia infatti al verso 52 a questo a questo paragone così realistico dello strumento musicale Dante aggiunge una digressione scientifica sulla causa dell'idropesia che è appunto la malattia che subiscono questi falsatori come contrapasso la grave idropesia che si disfaia le membra con l'omor che mal converte che il viso non risponde alla ventraia faceva lui tener le labbra aperte come l'etico fa che per la sete non verso il mento e l'altro in su rinverte allora l'idropesia grave qui è importante la parola grave perché come voi sapete grave ancora oggi quando parliamo del centro di gravità coincide grave con pesante ma nell'italiano antico ancora di più infatti il peso appunto di questi dannati contrasterà poi con una cosa che Virgilio dice a Dante allora la grave idropesia che così disfaia le membra cioè che rende le membra del corpo spaiate cioè non adeguate le une alle altre con l'omor che mal converte cioè convertendo male gli umori cioè il liquido questa appunto era la spiegazione scientifica dell'idropesia che Dante leggeva non solo in Avicenna ma anche in alcuni trattati contemporanei di medicina uno dei quali quello che si chiamava De proprietari bus rerum di Bartolomeo Angelico scusate chiamava scusate sto leggendo la citazione perché interessante forse come legame con il contrapasso chiamava gli idropici rabbiosus e distingueva dentro l'idropesia la timpanite che faceva sì che il ventre fosse così tondo che suonasse come un tamburo che effettivamente è una delle cose che Dante qui come vedremo tra qualche verso attribuirà a Mastro Adamo che è il personaggio che ora diventerà protagonista allora Dante in questo canto dove mescola tutto adesso mette appunto queste diciamo queste parole che riguardano la scienza la medicina dell'epoca dicendo che l'idropesia dipende dalla non avvenuta conversione dell'umore in modo che il viso non risponde alla ventraia cioè che il viso diventa molto piccolo molto secco asciutto mentre il ventre diventa enorme questa idropesia verso 55 faceva lui tener le labbra aperte come fa il tisico che per la sete una delle labbra va verso il mento e l'altra verso l'alto quindi aveva la bocca aperta insomma in continuazione e al verso 58 allora questo personaggio si rivolge a Dante e Virgilio che li vede chiaramente senza malattie quindi capisce che insomma non fanno parte dei soliti dannati della bocca o voi che senza alcuna pena siete e non so io perché nel mondo gramo diseglie a noi guardate e attendete alla miseria del maestro Adamo io ebi vivo assai di quel chi vogli e ora lasso un gocciol d'acqua bravo ora si presenta questo personaggio che è davvero notevole perché anche lui come il Dante scrittore di questo canto va cambiando proprio tono e atteggiamento psichico lungo il suo discorso intanto vedete come si presenta o voi che siete senza alcuna pena quindi che non avete alcuna malattia evidente e io non so perché nell'inferno nel mondo gramo si rivolge ma evidentemente non gli importa molto perché non è che come altri personaggi domanda ma che fai qui come mai chi siete no dice io vi vedo e comincio a lamentarmi subito approfitto che qualcuno mi ascolta e la prima cosa che fa appunto in preda all'autocommiserazione è con il tono del lamento di Geremia comincia guardate e attendete alla miseria del maestro Adamo questo maestro Adamo è di identificazione dubbiosa secondo alcuni un inglese Adam Bian che fu in Toscana al servizio dei conti guida di Romena che adesso lui nominerà erano tre fratelli che diciamo lui come bravo falsatori di metalli gli era stato ordinato di coniari fiorini d'oro di una lega più bassa di quella che dovevano avere erano di 24 carati fiorini d'oro sapete che il fiorino d'oro era la moneta forte dell'Europa dell'epoca che era arrivata a coprire praticamente tutti insomma tutto il commercio dell'Europa e doveva pesare 24 carati quindi essere di un oro molto puro e questo invece per i conti guidi aveva fatti questi conti di Romena aveva fatto i fiorini con una lega chiaramente con tre carati di immondizia come dirà lui di rame o di qualche metallo mine erano stati scoverti e lui era stato bruciato nel robo nel 1281 allora inizia lui nel presentarsi e guardate come sono messo e subito dopo aver citato in qualche modo un eco del lamento di Geremia adesso ricordo un po' un altro episodio biblico quello del ricco e pulone perché quello che dice qua il verso 62 è io ebbi vivo assai di quel che io vogli e ora ho l'asso un gocciol d'acqua bramo cioè da vivo ebbi fui ricco insomma ebbi tutto quello che volevo ma ora povero me bramo una goccia d'acqua quindi desidero fortemente di bagnare come Enrico e Pulone di lambire un dito insomma bagnato in acqua e che chiaramente la malattia insomma lo punisce con una sete estrema e dopo insomma aver dichiarato il suo il suo grande dolore nell'inferno al verso 64 aggiunge cioè narra a Dante Virgilio un'altra parte del contrapasso che loro non potrebbero vedere e che è molto interessante perché ci avverte sulla varietà di cui si serve Dio nella sua giustizia verso 64 gli ruscelletti che di verdi colli del casentin dicendo gius in arno facendo i loro canali freddi e molli sempre mi stanno innanzi e non in darno che l'immagine loro vi è più maciuga che il male Dio nel volto mi discardino cioè sta dicendo io sempre davanti a me quindi vedo nell'immaginazione sempre i ruscelletti cioè i fiumi che discendono dai verdi colli del casentino per poi sboccare nell'arno facendo i loro canali freddi e molli umidi cioè ho sempre io davanti quest'immagine e non in darno non a vuoto non in vano che vuol dire non in darno cioè Dio mi fa ricordare in continuazione il paesaggio fertile umido pieno d'acqua della terra dove io peccai come dirà ora non a vuoto cioè parte della giustizia divina già che verso 68 la loro immagine l'immagine di questi ruscelletti mi asciuga cioè mi fa avere più sete vi è più molto di più che il male che mi fa discarnare nel volto che l'idropisia è interessante perché evidentemente alla malattia che lo induce ad avere sete si aggiunge il ricordo costante del paesaggio pieno di acqua di cui lui avrebbe potuto godere e nel quale invece di godersi peccò in modo da poi adesso bramare anche una goccia d'acqua e infatti al verso 70 aggiunge la rigida giustizia che mi fruga tragica aggiunge il loco vi ho peccai a mettere più i miei sospiri in fuga cioè la giustizia rigorosa di Dio che mi assilla prende causa occasione dal luogo dove ho peccai che è il luogo che io ricordo in continuazione per mettere più in fuga i miei sospiri quindi per farmi soffrire ancora di più e appunto dopo aver descritto quest'alta pena che gli fa soffrire ancora più dice della malattia che sta lui ricordiamo è questo liuto che ha la faccia tutta dimagrita la bocca sempre aperta una sete tremenda e la pancia come un liuto e sta dicendo ma il peggio della mia pena voi non lo potete vedere è il mio ricordo costante delle acque che c'erano nel posto dove io peccai e al verso settantatré ivi è romena la dove io falsai la lega suggerilata del batista per chi il corpo su arso lasciai cioè lì appunto tra i ruscelleti che scendono dal casentino nell'arno e il castello di romena appunto il castello dove c'erano questi tre fratelli dove io falsai la moneta del battista cioè il San Giovanni Battista era il padrono di Firenze e quindi c'era il suo ritratto sul fiorino d'oro per cui io lasciai il mio corpo arso lassù perché come abbiamo detto lui è stato scoperto e bruciato e dopo tutta questa diciamo dichiarazione prima del proprio dolore poi il racconto del suo peccato adesso Mastro Adamo passa a esprimere una una grande rabbia un grande odio nei confronti di questi che erano stati i suoi capi ai quali come ora vedremo lui insomma attribuisce la la colpa per la quale lui è lì come hanno fatto tanti altri personaggi dell'inferno anche Mastro Adamo anziché insomma essendo dannato prenderne atto dire vabbè se Dio mi ha messo qui è perché il peccato è stato chiaramente mio dà la colpa ad altri in questo caso ai suoi capi ed è talmente arrabbiato con loro che guardate come continua il suo discorso al verso 76 ma se io vedessi qui l'anima trista di Guido d'Alessandro o di loro frate per Fonte Branda non darei la vista cioè ma se io potessi vedere qui cioè dannati nello stesso luogo dove soffro io l'anima trista di Guido d'Alessandro o di Aguinolfo no il loro fratello non darei la vista loro non la cambierei per Fonte Branda una grande fonte che non si sa se è quella di Siena o una vicino appunto a questo castello di Romena cioè lui ha appena detto che la sete è quello che più soffre della punizione ma ora veniamo a capire attraverso quest'ultima terzina che in realtà rinuncerebbe a bere pur di vedere dannati questi conti che l'hanno indotto a peccare e quindi alla dannazione e questo è interessante perché siccome lui prima ha detto non indarno cioè la giustizia divina mette davanti alla mia vista il paesaggio dove io visse pieno di acqua perché questo appunto mi stimola alla sofferenza è probabile è probabile che lui non se ne accorga ma che anche quest'odio che porta verso i conti sia parte della sua punizione cioè il malessere che deriva dall'odio che ha verso i suoi vicini è qualcosa che è peggio ancora della sete se lui pur di vederli darebbe anche frontebranda vero però non può vederli al verso 79 appunto chiarisce dentro c'è l'una già se le arrabbiate ombre che vanno intorno di Convero ma che mi vale che ho le membra legate allora una di queste ombre queste anime di questi tre fratelli c'è già qua è probabilmente guido di cui sappiamo che era morto prima del 1300 dice se le ombre arrabbiate cioè i rabbiosi che vanno intorno dicono la verità e questo è anche interessante perché di nuovo ci si apre una sorta di finestra alla quotidianità dell'inferno per cui i personaggi che non possono muoversi come il caso di Mastro Adamo come ci dirà ora sono informati dalle altre anime che si passa in formazione tra di loro guarda che è arrivato quello che ha peccato con te va bene ma certo non bisogna fidarsi troppo non si sa se le anime dell'inferno dicono vero quindi lui non può essere del tutto certo che uno di questi fratelli sia già lì ma crede che ci sia ma dice ma di che mi vale che lui ci sia se io ho le membra legate se l'idropisia mi impedisce di camminare e infatti al verso 81 aggiunge se io fossi pur di tanto ancora leggero che potessi in cent'anni andare un'oncia io sarei messo già per lo sentiero cercando lui tra questa gente sconcia con tutto che la volge a 11 miglia e un mezzo di traverso un'oncia allora guardate che mente che ha questo dice se io fossi ancora un pochino leggero da poter fare un paio di centimetri ogni cent'anni mi sarei già messo in cammino certo perché ha l'eternità davanti a sé no quindi anche che se camminasse molto lentamente ha tutto il tempo del mondo per farlo mi sarei già messo giù dice nel sentiero verso 85 cercando lui tra questa gente tutta malmessa nonostante questa volgia volge 11 miglia vi ricordate che nel canto precedente Virgilio per mettere fretta a Dante che era rimasto fissato a guardare se un suo parente c'era nella volgia dei seminatori di scisma per mettere fretta Virgilio aveva detto a Dante guarda che questa volgia misura 22 miglia abbiamo poco tempo ancora quindi questa invece misura la metà 11 miglia e e ha di traverso meno non meno di un mezzo qui Dante di mezza miglia no qui Dante si serve come pochissime altre volte nel poema di una rima spezzata noncia che vuol dire vuol dire che a differenza della stragrande maggioranza delle rime dantesche che si accentano come si accentano le parole nella prosa comune in questo caso per far rimare ci ha con oncia e sconcia bisogna pronunciarlo noncia che non è una pronuncia diciamo abituale l'abbiamo visto vi ricordate nel settimo dell'inferno un'altra rima così purli in rima con burli che in realtà nella prosa uno bisognerebbe accentare pur lì come qui non c'ha bene e allora chi ha detto io se se io potessi muovere anche un un millesimo di di centimetro ogni tanto l'avrei già fatto ma nonostante sappia quanto è grande questo posto e quanto ci metterei a trovarlo ma evidentemente ha una voglia esorbitante di vedere come è punito quello da cui secondo lui dipende la sua propria dannazione e infatti al verso 88 aggiunge io son per l'altra si fatta famiglia e mi indussero a batterli i fiorini che avevano tre carati di mondiglia cioè io per colpa loro sono in questa famiglia insomma dei malati egli cioè loro mi indussero a battere i fiorini i fiorini d'oro che avevano tre carati di immondizia cioè di metallo vile quindi vedete che lui prima diciamo esprime questa autocommiserazione in tono proprio lamentoso biblico poi racconta in che cosa consiste la sua sofferenza passa da questo stato d'animo alla rabbia nei confronti di quelli che tanto vorrebbe vedere dannati anche loro e poi scarica su di loro la responsabilità è colpa loro se io sono qua perciò io vorrei tanto vederli soffrire allora visto che è finito il discorso di Mastradamo suggerirei di fare la pausa ora e se volete dedichiamo cinque minuti a delle domande se ne avete che vi prego di pormi insomma oralmente ciao grazie ciao san pablo dos cose primero questa imagen di che las almas hacen lo mismo che nosotros di trasmittir humores acerca a lo quotidiano a lo real sì questo diciamo è uno dei tanti tratti dell'inferno ma anche delle altre due canti che fortunatamente che le anime dell'aldilà condividono con la nostra vita insomma l'autocommiserazione il ricordo come sofferenza la la volontà di vedere soffrire gli altri la la insomma l'idea che gli altri siano colpevoli della propria infelicità sono tutti tratti psicologici di questo mondo chiaramente sì e anche questo dei rumori chiaramente e l'interesse che hanno loro nella vita del mondo no anche questo è qualcosa che caratterizza molte delle anime dell'inferno che sapendo di non avere davanti di una vera vita diciamo partecipano molto attivamente alle passioni del mondo abbiamo visto anche personaggi più nobili come Carinata per esempio e e e la parte del efecto che che causa in le immagini come se le as almas passano al lado di Adamo para decirlo e l'altra cosa entiendo che il peccato è farci passare per l'altro per un fin fraudulente la domanda seria che opinione che apparece nel purgatorio o nel paraico i actori che si facciano passare per l'altro allora intanto che arisco se quedò lui è falzatore di dettagli Claudia, quedaste congelata altra volta ora mi sentite? si? mannaggia, scusate io non so, evidentemente il mio collegamento è debole e siccome la maggior parte di voi non ha la telecamera e rieccomi mi era caduta la connessione evidentemente mannaggia va bene allora se ora si sente sì stavamo credo Juan Pablo avesse notato la intensità delle immagini la forza delle immagini realistiche e poi aveva aveva domandato sulla sorte eterna degli attori dunque intanto dobbiamo ricordare una cosa importantissima in tutti questi canti dedicati al malevolge e cioè che si tratta sempre di fraudulenti quindi tutti questi diciamo sono casi particolari di frode per cui Dante non si esprime sugli attori come di solito non si esprime sulle diverse diciamo attività umane tranne che forse per gli usurai no perché perché gli considera in particolare l'usura la considera una diciamo un'attività che è sempre diciamo violenta contro Dio ma secondo me diciamo oserei dire anche se Dante non ne parla che Dante non vede alcun diciamo niente di riprovevole nella recita a teatro anche se come sapete nel Medioevo non era un'attività insomma abituale ma perché semplicemente a teatro la gente ci va consapevole che gli attori faranno un personaggio quindi non c'è frode non c'è frode lì quindi tranquilli attori il paradiso può essere vostro qualche altra domanda Anna sì ora ora sì sì no io ricordo lo che voglio Claudia è ricordare che Puccini hizo una interpretazione magnifica solamente con questo episodio hizo una opera con un personaggio solo che è Gianni Schicchi certo sì grazie sì grazie effettivamente diciamo sapete che il romanticismo è il movimento che nell'ottocento riscopre Dante dopo secoli di emarginazione dal canone e non a caso diciamo i musicisti che ne parlavo proprio con un amico musicista la settimana scorsa che mi diceva in genere i musicisti fugono da Dante temono di non essere all'altezza della commedia e beh certo ma nell'ottocento appunto ci sono diverse diversi diversi componimenti tra cui Gianni Schicchi che si basa proprio su brevissimo episodio ed effettivamente c'è l'opera come c'è anche insomma anche Francesca da Rimini come personaggio è stata protagonista di opere del romanticismo infatti grazie qualche altra domanda o commento Francesca da Rimini è stata fatta da San Donai esatto brava molto bene dicono che anche la trilogia del Gianni Schicchi e Stavaro e Sant'Angelica era era tutta dedicata alla a a a a a Dante ossia alla alla comedia no la trilogia non solo Gianni Schicchi se no le tre le tre opere che che si che Cuccini fa insieme no ah non lo sapevo questo grazie lo dicono non so se è vero lo dicono i commentatori non lo so se è vero che addirittura la trilogia era dedicata alle tre parti della commedia ah ottimo grazie grazie una suor Angelica e il tabarro suor Angelica il tabarro e suor Angelica certo tutte e tre ah non sapevo che le altre due fossero legate anch'esse alla commedia dicono lo dicono non so se è vero ottimo grazie altri dubbi o commenti sto passando diversi schermi per vedere se qualcuno manifesta la sua voglia di commentare qualcosa scusa una ultima la parola mondiglia mondiglia si mondiglia vuol dire immondizia diciamo basura sarebbe una pregunta si Monica si Monica me da curiosità il tema de las tantas referencias a la antigüedad a la mitologia pensava en los lectores por ahí para nosotros hacen falta muchas explicaciones para poder entender todas estas referencias en el lector en el que Dante estaría pensando las necesitaba también eran más conocidas estaba pensando en un lector muy culto como es ese asunto fue un argumento veramente molto difícil molto controverso proprio stamattina ne parlavo con con il mio maestro a proposito di una cosa che lui sta scrivendo diciamo Dante chiaramente si rivolge a un pubblico molto vasto che include chiaramente un pubblico colto senz'altro che riesca a cogliere tutti i riferimenti come stai dicendo Monica insomma alle metamorfosi di Ovidio alle Beneide alla Farsalia di Lucano ma anche vedremo nel paradiso argomenti filosofici e teologici molto complessi che chiaramente non erano padroneggiati da molta gente poi però il miracolo di quest'opera è che nonostante tutti questi riferimenti oscuri o medianamente oscuri per molti lettori dell'epoca e anche attuali è un libro che avvince nonostante questo proprio per la trama proprio come libro di avventure attraverso un coinvolgimento diretto anche di un pubblico popolare quindi a quale pubblico pensava Dante è molto difficile da sapere anche perché come abbiamo detto più volte avremo modo di dirlo più chiaramente quando leggeremo il paradiso Dante non si sente l'autore della commedia bensì uno scriva dei quindi lui è certo di star portando a termine una missione divina e quindi chiaramente intende arrivare ad ogni lettore dell'umanità perché il suo scopo come abbiamo detto tante volte non è quello di intrattenere o di commuovere solo esteticamente bensì di cambiare la nostra vita di purificare l'umanità attraverso la sua opera per cui chiaramente deve per forza rivolgersi a un pubblico molto largo e a questo diciamo risponde anche questa scelta rivoluzionaria da parte di Dante di aver scritto il poema in lingua volgare che è stata chiaramente una scelta insomma che sono tutti d'accordo nel caratterizzare come democratica nel senso che il dialetto di cui lui si serve è un dialetto comprensibile almeno oralmente da tutti gli strati sociali a differenza del latino che era la lingua scontata per scrivere un libro come questo e di fatti gli umanisti di generazioni successive hanno rinfacciato a Dante questa cosa come i mali gli è venuto in mente di scrivere un libro che parla di tutte queste cose nella linguaccia dei contadini e quindi Dante chiaramente vuole far arrivare il messaggio a tutti e infatti questo è coerente con quello che dichiara all'inizio del convivio e non solo all'inizio sulla divulgazione del sapere mi sa che mi avete perso per un po' ma questa volta l'ho avvertito perché ho visto che anche voi eravate frizzati anzi voi eravate frizzati per me e quindi sono stata zitta un po' finché non è tornato ma stavo dicendo allora che chiaramente Dante si rivolge a un pubblico molto molto largo che idealmente coincide con l'umanità ma chiaramente molti dei significati un libro è un libro con tanti piani con tanti piani di significato con tanti livelli chiaramente alcune cose le capiscono in pochi insomma come appunto i riferimenti mitologici eccetera altri ancora meno gente quella che va a guardarsi libri di filosofia che Dante stesso invita ad andare a vedere per la lettura del paradiso ma che aveva lui in mente difficile da sapere ma quello che effettivamente sembra di essere successo è che il libro nonostante la sua difficoltà si è aperto strada presso molti tipi di lettori diversi che hanno goduto della lettura nonostante la mancata comprensione di alcune cose o la fatica laboriosa di cercare come facciamo noi tutti insomma tutti i riferimenti non so se la mia risposta è stata soddisfacente sì molte grazie molte grazie sì prego qualche altro dubbio o commento ragazzi no? allora andiamo avanti se siete d'accordo riprendiamo dal verso 91 sono appena finite le parole di Mastro Adamo e Dante come di solito fa con i personaggi che danno la colpa ad altri in genere non risponde a queste cose in questo caso chiede insomma di altri due anni altri due dannati che lui vede là e io a lui chi sono i due tapini che fuman come bambagnate al verno giacendo stretti ai fondestri confini cioè chi sono gli altri due miseri che lanciano fumo come e questa è una bellissima immagine come mani bagnate d'inverno cioè che no? l'acqua calda e il caldo proprio del corpo fa sì che ci sia un vapore dentro l'aria fredda dei dei dintorni chi sono questi che fumano giacendo stretti alla tua destra e allora risponde e qui vediamo un altro tipo di falsatori verso 94 risponde Mastro Adamo qui li trovai e più volte non dierno rispose quando piopi in questo greppo e non credo che diemi in senti terno cioè la prima cosa che dice Mastro Adamo è che loro sono più antichi di lui mentre lui è chiaramente contemporaneo è morto meno di venti anni prima di questo incontro dice questi io li trovai qui quando io cadi e non si sono mossi cioè sono chiaramente sposati a un tale estremo che non riescono a muoversi e dice non credo che si gireranno mai e al verso 97 li presenta l'una è la falsa che accusò Giuseppe l'altro è il falso sinon greco di Troia per febbre aguta agita tanto leppo cioè l'una è la falsa che accusò Giuseppe di nuovo di nuovo c'è un accostamento tra culture diverse no perché sono insieme chiaramente con molta febbre con febbre molto alta i falsatori di parola o bugiardi una è la moglie di Putifarre che aveva accusato ingiustamente Giuseppe dopo aver tentato in vano di sedurlo che è chiaramente parte della Bibbia del libro della Genesi e l'altro è Sinone questo personaggio che Dante legge nell'Eneide che qui Sinon greco di Troia è chiaramente ironico perché prima era accolto insomma come cittadino di Troia ma che aveva ingannato appunto i troiani facendosi catturare da loro e dicendo che lo perseguitavano i greci è stato appunto quello che convince i troiani a far entrare il cavallo di Troia quindi di nuovo insomma la storia di Troia è la storia biblica messa messi insieme attraverso due personaggi che fumano insieme la loro febbre e qui inizia come se non bastasse in questo caso canto così variegato una scena comica il cui genere potrebbe avvicinarsi a quello dell'attenzione credo qualche volta abbiamo beh non lo so non mi ricordo se quest'anno abbiamo parlato dell'attenzione che è questo genere di origine provenzale attraverso il quale due o più poeti si lanciano delle sfide poetiche e si rispondono a vicenda Dante era stato protagonista di un'attenzione con un suo amico forese Donati molto di stile molto comico realistico in cui entrambi si accusano a vicenda di cose orrende torneremo a parlare di questo quando leggeremo il forgatorio ma ve lo anticipo molto brevemente perché molti critici di questo canto ritengono che la scena che stiamo per leggere sia da collegare con un atteggiamento poetico di Dante che poi alla fine del canto non so se avete sentito viene rimproverato da Virgilio allora siccome Mastro Adamo l'idro insomma questo idrocefalico questo tamburo appena tra virgolette denunciato la moglie di Putifarre è Sinone Sinone si arrabbia e comincia una lite al verso cento e l'un di loro che si recò a noi a forse d'essere nomato sia oscuro col pugno li percosse l'epacroia allora uno di loro che forse gli dispiacque forse gli dispiacque di essere nominato in un modo così negativo gli colpì col pugno la pancia dura l'epacroia anche qua chiaramente il suono non disdice al insomma al comico quella sonò come fosse un tamburo cioè la pancia e Mastro Adamo gli percosse il volto col braccio suo e non parve men duro dicendo a lui quindi Mastro Adamo dopo essere stato colpito da Sinone greco colpisce l'altro nel volto con il braccio duramente dicendo e al verso centosei inizia questo scambio di battute aggressive nelle quali ognuno prende in giro e denigra l'altro allora al verso centosei ancor che mi sia tolto lo muover per le membra che sono gravi ho io il braccio a tal mestiere sciolto cioè Mastro Adamo che aveva appena detto a Dante che lui non poteva muoversi per la volgia e andare in cerca di questi conti dice anche se il muovere il muovermi del tutto no mi sia vietato per le membra troppo pesanti il braccio per picchiarti ce l'ho sciolto e l'altro risponde al verso centonove on day rispose quando tu andavi al fuoco non l'avevi così presto ma sì e più l'avevi quando coniavi cioè l'altro lo prende in giro riprendendo questo del braccio sciolto e gli dice eh ma quando sei stato bruciato vivi non avevi il braccio così sciolto e chiaramente era stato legato no ma l'avevi molto sciolto quando coniavi moneta falsa e quindi questo è anche della vita no quello che diciamo in spagnolo come è quello è il muerto se ria del decociato perché sono tutti e due insomma dei falsatori tutti e due dannati per sempre ma si rinfacciano a vicenda il peccato dell'altro vero e allora al verso 112 si difende tra virgolette Mastro Adamo e l'idropico tu diverdi questo ma tu non fosti si ver testimonio l'ave del ver fosti a Troia richiesto dici il vero su questo cioè che io poniavo ma non sei stato un testimone così verace quando a Troia ti si richiese di dire la verità circa il cavallo appunto adesso dici la verità ma prima non la dicevi dice Mastro Adamo a Sinone e al verso 115 si io dissi falso e tu falsasti il conio disse Sinone e sono qui per un fallo e tu per più che alcun altro demonio cioè se io ho detto il falso l'ho detto una volta sta dicendo Sinone tu invece hai falsato il conio di tante monete che sei stato bugiardo diciamo falsario in molto in molta più quantità di altri demoni e allora cambia discorso Mastro Adamo al verso 118 ricorditi spergiuro del cavallo rispose quel che aveva infiata l'epa e si è tireo che tutto il mondo sallo e ricordati tu dello spergiuro del cavallo rispose Mastro Adamo quello che aveva gonfiata la pancia e che ti faccia male il fatto che tutto il mondo lo sa cioè quello del cavallo di Troia è famoso a differenza dei miei misfatti e allora al verso 121 e te si area la sete onde ti crepa disse il greco la lingua e l'acqua marcia che il ventre innanzi agli occhi si tassieva allora e che a te faccia male la sepa che ti fa crepare la lingua che te la te la fa insomma rompere e l'acqua marcia l'acqua putrida che ti e questa è un'immagine tremenda che il ventre ti assiepa davanti agli occhi cioè che ti gonfia così tanto il ventre che fa d'assiepe davanti agli occhi quindi ti impedisce di vedere allora al verso centoventiquattro allora il monetier così si squarcia la bocca tua per tuo mal come suole che se io ho sete e o mor mi rinfarcia tu hai l'arsura e il capo che ti duole e per leccare lo specchio di narcisso non vorresti a invitar molte parole allora Mastro Adamo risponde a Sinone la tua la tua bocca si squarcia per il tuo male come di solito succede già che se io ho sete e l'omore cioè il liquido mi rinfarcia cioè mi faccisce mi riempie tu hai l'arsura della febbre è un mal di testa d'ale che per leccare l'acqua di una fonte lo specchio di narciso non ti faresti pregare molto cioè lo faresti volentieri basta al verso 130 Dante smette di riportare come scrittura queste parole perché come adesso ci racconta Virgilio non gli permette di sentire più ad ascoltarli eri io del tutto fisso quando il maestro mi disse or pur mira che per poco che teco non mi risso cioè Dante dice io ero del tutto fisso assorto ascoltando questa lite di mastro che era come dire dottore no il maestro il vero maestro Virgilio mi disse continua pure a guardare per arrabbiare con te claudia scusa scusa non ti abbiamo sentito l'ultima parte scusa scusa oddio allora il rimprovero di Virgilio sì allora ripeto cerco di ripetere Dante era del tutto assorto ad ascoltare questa lite quando Virgilio rimprovera a Dante gli dice continua pure a guardare che io mi arrabbio con te mi dice sarcasticamente e quindi al verso 133 il povero Dante reagisce a queste parole dure del maestro quando quando sentì a me parlare con ira volsimi verso lui con tal vergogna che ancora per la memoria mi si gira cioè Dante quando sente che Virgilio si è arrabbiato con lui si rivolge al maestro con una tale vergogna dice che ancora anni dopo mentre sta scrivendo la commedia la vergogna gli torna alla memoria ricordando come capita a volte soprattutto quando uno si è comportato male che per anni poi arrossisce quando ricorda quella scena ma è importante questa diciamo questa considerazione di Dante perché come vedremo Virgilio gli chiede di considerare che lui lo accompagna anche quando non ci sarà più e quindi evidentemente il fatto che Dante continui a provare vergogna una volta tornato al mondo anni dopo quando sta scrivendo il libro vuol dire che continua ad avere la voce di Virgilio dentro la propria coscienza e infatti qua al verso 136 con una figura abbastanza complessa Dante ci rende il suo stato d'animo di allora cioè quando Virgilio l'ha rimproverato lui evidentemente non riesce a parlare ma dalla faccia che fa dal suo gesto dal suo rossore il maestro capisce che Dante si è sentito molto male si è mortificato e quindi leggiamo dal verso 136 qual è colui che suo dannaggio sogna che sognando desidera a sognare sì che quel che come non fosse agogna cioè come colui che ha un incubo cioè sogna la propria dannazione sogna insomma un suo male molto grave e che mentre sogna desidera di star sognando diciamo magari questo fosse un sogno in modo che quello che è come se non fosse desidera cioè desidera di essere nella condizione nella quale è veramente ma non lo sa si capisce questa cosa? Sì? Cioè come quando si sogna qualcosa di molto brutto e uno dice oh magari questo fosse un sogno ed è un sogno solo che quando uno sta sognando non sa che è un sogno cioè in modo che uno desidera qualcosa che già è ma non sa che è così verso 139 tal mi feci io non possendo parlare che desiava scusarmi e scusava me tuttavia e non mi credea di fare cioè così ero io che non riuscivo a parlare desideravo chiedere scusa e mi stavo scusando senza sapere di starlo facendo perché chiaramente Virgilio come voi sapete legge nella mente di Dante tutto quindi Dante non ha bisogno di esprimere a parole le sue scuse e quindi Virgilio al verso 142 gli dice vabbè non è così grave no maggior difetto men vergogna lava disse il maestro che il tuo non è stato cioè meno vergogna riesce a lavare un difetto maggiore rispetto a quello che è stato il tuo quindi stai tranquillo però ogni tristizia ti disgrava perciò liberati da ogni tristezza ma qui vedete che Virgilio usa il verbo disgravarsi che è appunto diciamo etimologicamente la negazione del grave che pesa in Mastro Adamo vero? quindi levati questa gravezza tu non sei colpevole e poi aggiunge al verso 145 e fa ragione che io ti sia sempre al lato se più avvi anche fortuna t'accoglia dove sia in gente in similiante piato che volerci audire è bassa voglia cioè comportati come se io fossi sempre accanto a te se ti dovesse ricapitare nel mondo perché la fortuna ti faccia essere dove ci sia gente in una lite simile a questa in un piato un placito un latino cioè in una lite cioè se ti capiterà quando tornerai al mondo di vedere un conflitto come quello che hai appena visto tra Mastro Adamo e Sinone Greco comportati come se io fossi accanto a te quindi non rimanere a guardare che voler udire una cosa del genere è una voglia bassa questo è molto interessante perché chiaramente noi sappiamo che Dante deve guardare tutto quello che accade nel suo viaggio perché appunto ce lo deve raccontare ma evidentemente Virgilio ha colto in questo atteggiamento di Dante qualcosa di morboso di sterile che non non gli serve non è edificante né per lui né per i lettori e quindi gli dice questa è una bassa voglia non c'è bisogno di stare a guardare va bene ed è anche interessante perché è uno dei momenti in cui Virgilio in qualche modo prepara Dante per il momento in cui lui non ci sarà più e quindi induce Dante a portarsi gli insegnamenti dell'aldilà nella vita del mondo quando lui insomma chiaramente tornerà nel limbo un'ultima cosa che vi faccio notare se uno tira le somme di tutti questi canti dedicati a malebolge vi ricordate che abbiamo osservato quando passavamo dal settimo all'ottavo cerchio che il Dante scrittore aveva lasciato diciamo come diciamo come descrizione degli usurai una porzione di testo preceduta dall'arrivo di Gerione vi ricordate che Gerione sale sul settimo cerchio per portare Dante Virgilio nell'ottavo cerchio c'è la descrizione di Gerione simbolo della frode e una volta che Gerione è arrivato lì Virgilio dice a Dante vai a vedere gli usurai così ti porti diciamo un panorama completo di questa di questo girone dei violenti contro Dio e intanto io convinco Gerione a prestarci le sue spallacce perché possiamo scendere in quel momento io vi avevo commentato stiamo parlando del canto 17 dell'inferno che questa decisione del Dante scrittore di presentare gli usurai dopo aver presentato Gerione suggeriva un carattere di via di mezzo dell'usura tra la violenza e la frode e non a caso era diciamo il peccato di violenza più legato ai soldi alla cupidigia di beni materiali non sembra casuale in questo senso che questi dodici canti dedicati a malevolge si concludano con questo personaggio che ha coniato moneta falsa per cui il mondo del fiorino d'oro il mondo mercantile in qualche modo si presenta come ultimo grande episodio di malevolge facendo da cornice diciamo di tutti i peccati dell'ottavocello cerchio con due allusioni molto forti all'avidità di denaro che effettivamente è il diciamo la motivazione prevalente in questo ottavo cerchio cioè con pochissime eccezioni tra cui chiaramente quella di Ulisse i peccatori di questo ottavo cerchio di frode agirono per avere più soldi e quindi probabilmente perciò Dante ha voluto insomma incorniciare tra l'usura e il conio di moneta falsa la grande varietà di questo ottavo cerchio qualche dubbio siete pronti la settimana prossima a scendere nel nono cerchio il posto più brutto dell'universo ci vuole coraggio infatti questi ultimi canti dell'inferno a mio avviso sono insopportabili insopportabili voglio dire deliberatamente fatti insopportabili da Dante che ci induce a voler uscire a rivedere le stelle veramente c'è un momento in cui uno non ce la fa più di questi mascalzoni del fondo dell'inferno vero? beh non so se capita a voi io non vedo l'ora di andare in purgatorio ma ci mancano ancora quattro settimane di letture infernali avete qualche dubbio? a me mi piace molto l'inferno eh però devi guarire da questo devi guarire da questa attrazione del male no lo so che è molto umano voi sapete che in grande misura i giornali che lo sanno benissimo che il male vende più del bene se voi fate il conto no? insomma delle brutte notizie delle buone notizie non è solo perché questo è un mondaccio è perché sanno benissimo che il male vende più che il bene non è che non ci siano buone notizie ma non vendono perciò il mondo del bene anche nella divina commedia chiaramente attira di meno inizialmente ma insomma quello che ci attende è molto più bello eh come letteratura voglio dire come letteratura Dante si supera in ogni libro e quindi sì sì lo so che l'attrazione dell'inferno è in genere prevalente ma io nel mio minimo cerco di collaborare per per far amare il purgatorio il paradiso che sono libri davvero stupendi il paradiso è difficile chiaramente è il più difficile dei tre libri ma è di una bellezza veramente che fa venire che fa venire i brividi bene rileggiamo il canto allora scusa prego perché è capitato questo questo non è perché il paradiso è stato molto più comprato non illudetevi questo è perché siccome era quello che si vendeva di meno la Dante Alighieri di Buenos Aires che è quella che ha pubblicato questa versione che tu hai appena fatto vedere quella degli anni ottanta alla fine dei corsi a coloro che avevano una buona media regalava i libri che in qualche modo avanzavano in libreria e quindi molti studenti hanno ricevuto solo il paradiso per cui poi è capitato una sorta di contrapasso per cui il paradiso non si trova più in libreria perché è stato molto regalato non molto venduto del resto leggersi il paradiso senza aver letto le altre due cantiche è veramente assurdo per cui bisogna leggerlo tutto ma adesso speriamo che insomma ora ci sono disponibili altre traduzioni di tutte e tre le cantiche e comunque non so perché parliamo di traduzioni se voi potete leggerlo in italiano quindi non ce n'è bisogno va bene eh Claudia che ne pensi del Sapegno? Beh il Sapegno è un'edizione cioè Sapegno in sé è uno studioso ottimo molto importante il suo commento degli anni cinquanta ebbe innumerevoli riedizioni continua a usarsi io lo trovo molto molto valido molto valido io ce l'ho io ce l'ho tutti i tre per capire è un'ottima edizione bisogna leggere 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 no? eh sì se uno vuole nessuno vi costringe a leggere però sì se uno vuole capire almeno medianamente Dante si deve leggere molto senz'altro ma è bello leggere rileggere continuare imparare perché questo che domandava prima qualcuno di voi sul pubblico cui Dante si rivolgeva cioè Dante ha questa cosa a mio avviso di unico non credo che ci sia un libro che in questo senso risponde a così tanti pubblici diversi e a così tante letture cioè ogni cosa che uno vuole studiare su Dante l'uso di una singola parola un personaggio un aspetto regge ad ogni livello d'analisi cioè a meno io studio Dante da molti anni ogni volta che ho affrontato un problema o uno pseudoproblema o qualcosa insomma che attirava la mia attenzione più leggevo Dante più leggevo le note più leggevo le fonti più mi si arricchiva il testo cioè a differenza di altri autori che dopo più non li ha letti non lo so 20-30 volte dice vabbè grazie l'ho già capito nel caso di Dante diventa sempre più profondo più significativo è davvero un libro infinito è veramente incredibile questo è incredibile è difficile poi accontentarsi di altri libri onestamente dopo aver visitato questa meraviglia unica qualche altro commento o dubbio no? rileggiamo allora questo canto così variegato nel tempo che Iunone era crucciata per semelè contra il sangue tebano come mostrò una e altra fiata ma Atamante divenne tanto insano che veggendo la moglie con due figli andar carca da ciascuna mano gridò tendiam le reti sicchioppili la leonessa e i leoncini al varco e poi distesi dispietati a figli prendendo l'unchio che avea nome le arco e rotollo e percosselo ad un sasso e quella s'annegò con l'altro carco e quando la fortuna volse in basso l'altezza dei troianche tutto ardiva sì che insieme col regno il re fu casso ecuba trista misera e cattiva poscia che vide polissenna morta e del suo polidori sulla riva del mar si fu la dolorosa accorta forse nata la trossi come cane tanto il dolor le fe la mente torta ma né di te e befuri né troiane si vider mai in alcun tanto crude non punger bestie nonché membra umane quant'io vidi in due ombre smorte nude che mordendo correvan di quel modo che il porco quando del porcil si schiude l'una giunse a capocchio e sul nodo del collo la sannò sicché tirando grattagli feci il ventre al fondo sodo e la retinche rimase tremando mi disse quel folletto è già nei schicchi e va rabbioso altrui così ponciando po' disse io lui se l'altro non ti ficchi i denti addosso non ti sia fatica a dire chi è pria che di cui si spicchi e delle a me quella è la name antica di mirra scellerata che divenne al padre fuor del dritto amore amica questa peccar con esso così venne falsificando se in altrui forma come l'altro che la se va sostenne per guadagnare la donna della torma falsificare in se buoso donati testando e dando al testamento norma e poi che i due rabbiosi fuorpassati sopra cui avea l'occhio tenuto rivolsilo a guardare gli altri malnati io vidi un fatto abuisa di leuto perché le avesse avuta l'anguinaia trompa dall'altro che l'uomo ha furputo la grave idropesì e si dispaia le membra con l'omor che mal converte che il viso non risponde alla ventraia faceva lui tener le labbra aperte come l'epico fa che per la sete l'un verso il mento e l'altro in su rinverte o voi che senza alcuna pena siete e non so io perché nel mondo gramo disse gli a noi guardate e attendete alla miseria del maestro Adamo io e vivivo assai di quelli che voli e ora lasso un goccio d'acqua bravo i ruscelletti che di verdi colli del casentin indiscendo ingiusinarno facendo i loro canali freddi e molli sempre mi stanno innanzi e non indarno che l'immagine loro vi più mi asciuga che il male on dio nel volto mi discarno la rigida giustizia che mi fruga trage cagion dell'occo io peccai a metter più i miei sospiri in fuga ivi è romena la dov'io falsai la lega suggellata del batista perché il corpo su arso lasciai ma se io vedessi quell'anima trista di guido d'alessandro di loro frate per fonte branda non darei la vista dentro c'è l'una già se le arrabbiate ombre che vanno intorno di convero ma che mi val con le membra legate se io fossi leggero chi potessi in cent'anni andare in oncia io sarei messo giù per lo sentiero cercando lui tra questa gente sconcia che tutto che la volge undici miglia e mendun mezzo di traverso non oncia io son per loro trasi fatta famiglia e mi indussero a batterli fiorini che avevano tre carati di mondigna e io a lui chi son i due gnatca alverno giacendo stretti ai tuoi destri confini qui li trovai e più volta non di erno rispose quando piove in questo greppo e non credo che dia in sempiterno l'una è la falsa che accusò gioseppo l'altro è falso sino un greco di troia per febbre aguta agittan tanto letto e l'un di loro che si recò annoia forse d'essere nomato sì oscuro col pugno gli percosse l'epa crolla quella sonò come fosse un tamburo e mastro adamo gli percosse il volto col braccio suo che non parve men duro dicendo a lui ancor che mi sia tolto lo muover per le membra che sono gravi o io il braccio a tal mestiere sciolto andai rispose quando tu andavi al fuoco non l'avei tu così presto ma sì e più l'avei quando coniavi e l'idropico tu diverdi questo ma tu non fosti si ver testimonio l'ave del ver fosti a troia richiesto sì io dissi falso e tu falsasti il conio disse sinon e son qui per un fallo e tu per più che alcun altro demonio ricorditi spergiuro del cavallo rispose quel che avea infiata l'epa e siete reo che tutto il mondo sale lo e te sia rea la sete onde ti crepa disse il greco la lingua e l'acqua marcia che il ventre innanzi agli occhi si tassieva allora il monetier così si squarcia la bocca tua per tuo mal come suole che si io sete o mormir in farcia tu hai l'arsura il capo che ti vuole e per leccare lo specchio di narcisso non vorreste invitar molte parole ad ascoltarvi ero io del tutto fisso quando il maestro mi disse or pur mira che per poco che te non mi risso quando il sentì a me parlare con mira volsimi verso lui con tal vergogna che ancora per la memoria mi si gira qual è colui che suo dannaggio sogna che sognando desidera sognare sì che quel che come non fosse agogna tal mi feci io non possendo parlare che disiava scusarmi e scusava me tuttavia non mi credea fare il maggior difetto me in vergogna lava disse il maestro che il tuo non è stato però ogni trespizia ti disgrava e fa ragione che io ti sia sempre al lato se più avvien che fortuna t'accoglia dove sia ingenti insimiliante piato che voler ciò udire è bassa voglia grazie dell'attenzione ci vediamo allora la settimana prossima arrivederci